Questa qui è un'arnia o arre, ideata da un frate inglese nell'inizio del secolo, in cui l'apicoltura stava prendendo un piede un pochettino più artigianale, industrializzato e lui ha avuto la convinzione che le api in un contenitore piccolo, in un contenitore a loro dimensione, fatto per loro, vivessero meglio. Quella dell'apicoltura non è una semplice occupazione, è innanzitutto una passione, fatta di un lavoro paziente, eroico, nel quale la missione degli apicoltori è portata avanti nel valorizzare la biodiversità. Oggi questo esserino di appena 90 mg di peso viene celebrato in giro per il pianeta in occasione della giornata mondiale delle api, ricorrenza istituita dall'ONU nel 2018. Dobbiamo sapere che le api servono in natura, sono degli insetti impollinatori e perciò prima della produzione di miele c'è l'impollinazione. Senza impollinazione non avremo frutta, non avremo verdura, non avremo tutto quello che le api fanno in conseguenza. Gli apicoltori vivono di miele, di polline, di roba del genere, perché è il surrogato del lavoro che fanno le api. La stagione è iniziata bene, abbiamo avuto un inverno mite, le api sono uscite bene dall'inverno. Decisamente un inverno sin troppo mite e che ha portato la pioggia nel momento esatto delle fioriture. Nel complesso, però, la situazione produttiva del miele della nostra provincia non è poi così male, considerando che lo scorso anno, di questi tempi, miele di acacia non ce n'era e che a maggio 2020 i dati sono davvero lusinghieri. E se le cifre diramate da Coldiretti nella giornata di ieri parlano di un calo produttivo del 20% in lungo e in largo per la regione Lombardia, va pur detto che la situazione nel resto dell'Italia è ben peggiore e presenta brusche diminuzioni produttive a macchia di leopardo. Abbiamo il centro Italia, diciamo, scarsissimo, con produzioni qua e là, a macchia di leopardo. Abbiamo l'Emilia Romagna, anche lì, con una produzione scarsa, specialmente del miele di acacia, che è quello che cuba, è come se fosse il primo foraggio, perciò quello che riempie il fienile, detto in parole che tutti possono capire. Alcune zone, come della Lombardia, alcuni apicoltori sono contenti, alcuni sono scontenti, questo va un po' meglio dell'anno scorso, in cui proprio non si era fatta per niente la produzione. Sulla sua maglietta leggo Vita Tua, Vita Mea. Se le api stanno bene, stiamo bene anche noi, esseri umani. Allora, parliamo un po' di questo. Negli ultimi anni anche l'effetto Serra non ha certo giocato a favore del benessere di questi insetti così preziosi. Questo movimento che è Be Life e che perciò fa parte degli apicoltori attivisti a livello europeo, a livello mondiale, diciamo della salvaguardia delle api, si è sempre mosso, si è sempre prodigato, diciamo, per la salvaguardia e per il benessere delle api. Il benessere delle api non è solo il cambiamento climatico, ci sono grosse problematiche legate ai pesticidi, infatti possiamo vedere che ci sono delle api per terra che stanno camminando, vedete? Questo è un maschio che sta camminando, sono viste, si vedono ogni tanto lì. Diciamo, queste api vengono a contatto con delle sostanze che vengono utilizzate in agricoltura, non so, sul vigneto, sul frutteto, sul mais, su tutte queste culture, e sicuramente ci sono, come dire, delle problematiche. Problematiche importanti, molte delle quali connesse al diserbo e dai prodotti chimici utilizzati a tal fine, che stanno portando alla morte di tante api, l'operato delle quali ha un ruolo fondamentale per gli esseri umani. Ci basti pensare che un singolo esserino di questi visita ogni giorno circa 7.000 fiori e che sono necessarie 4 milioni di visite floreali per produrre un chilogrammo di quella panacea che porta il nome di miele. Pensate, è dalla loro attività di impollinazione che dipendono ben tre colture alimentari su quattro, tra queste quelle delle mele, delle pere e poi delle ciliegie, dei cocomeri, delle fragole e dei meloni. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. La vita e il benessere di questi laboriosi insetti è lo specchio della nostra esistenza. Ragazzi, confrontiamoci, scambiamoci nozioni, scambiamoci informazioni, parliamoci. Non possiamo andare da soli, perché da soli dovremmo fare la gavetta. E la gavetta è fatta anche di tanti sbagli, di sbagli che devono essere corretti, di tiri che costano a livello aziendale. Grazie. 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 Grazie.